Una persona che noi possiamo considerare indipendentemente dalla sua appartenenza politica, una persona onesta, è Enrico Berlinguer. Che fu uno dei pochi italiani a riempire questa piazza. Quindi probabilmente quando ieri il cosiddetto premier ha detto a Beppe Grillo di sciacquarsi la bocca non sapeva che cosa stava dicendo. Io vi chiederei, perché la mia voce è sempre una sola voce, comunque non sono abituato ad alzare i toni, non sono capace di gridare. Quindi chiederei a tutti voi di gridare Berlinguer, in modo che lo sentano fino a Palazzo Chigi. E' a questo punto che nella Roma riuscì a farsi da voi. Bravo! Grazie!